Buongiorno, eh sì, siamo qui, siamo qui, ogni tanto vi faccio sentire un po' di sigla, ma siamo qua. 7 e 10, buongiorno a tutti e benvenuti e ben ritrovati, ben ritrovati. Mercoledì 13 novembre 2024, siamo ormai arrivati già a metà novembre, praticamente... Cioè, domani è ferragosto. Io c'ho questa cosa per dire, cioè, siamo già a metà novembre, praticamente... Cioè, metà novembre, praticamente il capodanno è già passato. Carnevale, già ce lo stiamo togliendo di dosso. Pasqua, no dai, diciamo Pasqua, cioè ormai sono già con la testa Pasqua, pensate voi... Sì, forse è un po' troppo, forse è un po' troppo. Voi invece cosa state facendo di bello? 3, 3, 1, 7, 8, 5, 3, 5, 5, 5. In questo momento, fuori dai nostri studi, ma anche delle vostre case, siete in casa, temperature che variano tra i 2 e i 4 gradi. Quindi oggi fa freddo, oggi fa freddo, sì, 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 sì. Se siete già in giro, ce lo potete testimoniare. E sicuramente avrete detto, ecco perché stamattina faceva così. Perché facciamo, sì, temperature in circa 2-4 gradi in giro per la città. Vi do sempre delle temperature abbastanza larghe, perché abbiamo capito questa cosa di Milano. Che non è che ci sono X gradi, punto. No, ci sono temperature che variano da zona a zona. Quindi noi abbiamo una media, e la media è come gli exit pole, no? È come le proiezioni per le elezioni, tra il 2 e il 4 gradi. Speriamo che non si sbaglino come con le proiezioni dell'Idao, qual è lì per Trump. Lì hanno sbagliato bellamente, vi ricordate, vai. Ne parliamo fra poco, 7-12 minuti, si inizia con la musica Ok Go, Here It Goes Again. Ok Go con Here It Goes Again. Ve lo ricordate il videoclip di questa canzone? Era quello lì particolare per cui c'erano questi quattro che ballavano, correvano, saltavano, su dei tapis roulant messi in una stanza. Sì, era quello lì, loro sono gli Ok Go. Pensate, sono passati quasi 20 anni da quando è stata fatta questa canzone. In realtà 18 anni, anzi, diventa maggiorenne, da poco, nel settembre del 2006, è uscita questa canzone. Insomma, è qualcosa come tenta diverso. Un gruppo che appunto nasceva più o meno 20 anni fa, e che, pensate quel videoclip adesso, che cosa sarebbe? È registrato con una telecamerina del cavolo, quattro ballerini che non sanno neanche ballare, e però una coreografia. Chissà, magari invece su TikTok adesso avrebbe preso. Sarebbe da pensare di dare da qualche TikToker per vedere se si può rilanciare. Anche perché c'è un ritorno delle canzoni, non so se avete sentito, c'è un ritorno delle canzoni di qualche anno fa, no? Malika Yann ne ha un paio che sono ritornate, Lina Zilli ne ha una che è ritornata. Poi abbiamo sentito Il Zero Assoluto, Il Zero Assoluto per dimenticare, ad esempio, è una canzone che è tornata tantissimo d'attualità su grazie appunto a questi trend ballerini, trend di TikTok, sfide, insomma, un po' di tutto. Volevo darvi questa notizia, perché... Cioè, nel senso, passiamo a tutt'altro adesso. Parliamo invece di affitti brevi, di Airbnb, di tutto quel mondo lì. Perché Milano Today ha fatto una bella interessante prova cercando di mettere in affitto un appartamento di Airbnb in zona Susa. E allora, se voi mettete il vostro annuncio su Airbnb e lo mettete da soli, ok, fatto e finito, poi fatti i vostri, se qualcuno ci viene qualcuno non ci viene. Ma a Milano, sappiamo, ci sono tantissime società che ormai gestiscono per conto appunto dei proprietari gli affitti, le pulizie, gli annunci, i prezzi. Si chiamano appunto property manager, perché menaggiano, gestiscono appunto le proprietà di altri. Sono alcune società, alcune grosse, alcune più piccole, alcune con filo, quasi sembrerebbe così, da un censimento più o meno a 500 e oltre appartamenti per esempio una società come Italian Way. Beh, cosa è successo? Che appunto il giornalista, la giornalista Irene Fassini di Milano Today ha provato a mettere un appartamento appunto che ha appunto Susa vicino alla fermata della M4. Beh, sapete che non è riuscita? O meglio, nel senso che è stata rimbalzata da più di una società perché gli han detto no, il suo appartamento non è più agli standard di questa città. Cioè serve il condizionatore, serve un design all'interno dell'appartamento, l'appartamento deve essere ristrutturato. Tutto questo semplicemente via mail o con delle foto. Cioè già così, no, guardi, grazie, non ci interessa. Ma soprattutto la posizione. E lei ha detto, ma scusa, è solo per la fermata della metropolitana? No, se è fuori dalla circombalazione, facciamo fatica a piazzarli. E quindi, quindi cosa viene fuori? Viene fuori che in realtà, e vi invito ad andare a leggere su Milano Today il dossier che appunto è stato fatto su questo tema degli affitti brevi a Milano, beh, il tema è qual è? Che a Milano ormai non è più detto che comprare una casa per poi fare l'affitto breve possa essere un giusto, un guadagno facile. Achille Lauro, amore disperato. Oggi è mercoledì, quindi oggi potete vedervi magari il riassunto delle puntate precedenti di X Factor se volete in vista del live di domani e appunto Achille Lauro che fa parte dei giudici e dei giudici di X Factor. 3-3-1-7-8-5-3-5-5-5-5 il nostro numero di Whatsapp a cui arrivano già i primi Whatsapp appunto. Buongiorno Fabio, buongiorno a chi? Alberto, grazie Alberto. Buongiorno Fabio, buongiorno a redazione e ascoltatore di Cristian Radio. Come tutte le mattine ci si prepara per uscire scandendo i tempi con Good Morning Milano. Eh sì, io anzi vi ringrazio e spero sempre di essere abbastanza preciso con i tempi. Sono abbastanza taliban su questa cosa io perché effettivamente so che molti di voi utilizzano la mia trasmissione come metronomo della mattinata, no? Ah, mi ha mandato la canzone quindi aspetta, qual è il momento in cui posso andare a fare il caffè perché poi dopo quando parte la prossima canzone devo già essere in macchina per andare al lavoro, no? Cioè fate tutti questi escamotage oppure è partita la pubblicità? No, allora io dovevo, cavolo, dovevo già essere sul tram invece sono ancora qui che sto uscendo di casa. Ecco, cioè so che usate la trasmissione appunto come metronomo, come scaletta della mattinata e quindi va bene, grazie soprattutto, lo dico sempre di farmi entrare nella vostra routine. È una routine in cui voi appunto mi fate entrare di cui io non sono degno di partecipare a questa routine frasando che persone più importanti di me però grazie, grazie davvero. Oltretutto parlando di Crystal Radio volevo darvi un appuntamento per giovedì questo, giovedì questo giovedì 14 novembre alle 21 Crystal Radio presenta Alberto Patrucco conduce in studio Giorgio Oneta insomma un'importante intervista a un importantissimo artista da uno delle nostre voci di spicco appunto di Crystal Radio che è Giorgio Oneta che anzi voglio salutare che è stato anche mio compagno di maratona insieme a quegli altri due che non voglio neanche nominare parlando di Nello e di Ambrogio Curti che hanno appunto fatto sabato scorso voglio ricordare appunto questa bellissima maratona oltre a tanti altri che si sono poi susseguiti durante la giornata e hanno anche preceduto appunto il mio intervento questa bellissima maratona dalle 8 del mattino fino alle 22 per festeggiare la radio mi avrebbe da dire ma proprio la radio in generale ma soprattutto i 40 anni di Crystal Radio insomma 40 anni non sono pochi ma la cosa bella è che sembrerebbe che più invecchia la radio più è giovane la radio nel senso che davvero 40 anni e sentirne sempre meno sarà l'esperienza forse ecco forse è una di quelle situazioni quella come questa qui di Crystal Radio dove più anni hai più esperienza fai sei più sei giovane bello e luminoso ecco mi avrebbe da dire così e quindi altri 40 anni così benissimo e soprattutto altre belle interviste che potete ascoltare altre belle trasmissioni che potete ascoltare su Crystal Radio su Crystal Radio.it sulle FM 96.2 e in tante tante altre modalità come le applicazioni insomma poi lo sapete il DAB il DAB in tutta la Lombardia e se volete giovedì sera 14 novembre alle 21 Crystal Radio presenta Alberto Patrucco appunto grazie mille a Giorgio Netta che ci darà questa bellissima esperienza e questa intervista a un grande artista come Giorgio come Giorgio Netta appunto che ci intervisterà Alberto Patrucco questo è l'appuntamento di giovedì sera l'appuntamento invece di Crystal Radio continua tutta la mattina noi siamo qui in diretta fino alle nove fra pochi secondi un pochino di pubblicità quindi è quel momento in cui voi potete prendere l'ascensore e andare giù e poi accendere l'autoradio in macchina prima che inizia la pubblicità magari così almeno ascoltate anche i nostri consigli per gli acquisti che insomma sono importanti perché se no la radio non è che arrivano in piedi da sola quindi grazie anche per ascoltare i nostri inserzionisti e grazie a chi investe anche in questa radio e adesso Ellie Goldwyn con Burn Lo Stato Sociale vorrei essere una canzone io sono felice di essere le vostre canzoni della mattina quindi grazie dei Whatsapp che sono arrivati e grazie davvero di essere anche un po' diciamo nei vostri pensieri quindi a me questa mi piace di poter penetrare nella vostra vita così entrando a volte piano a volte così ruento con delle canzoni a volte con la poesia dello Stato Sociale altre volte abbiamo aperto ad esempio con gli Ok Go che insomma sono proprio entrati hanno spalancato e sono entrati così dritti dentro di voi quindi insomma io sono davvero contento di poter fare ogni mattina questo per voi e ovviamente anche per me perché mi piace davvero davvero tanto e quindi grazie anche a Cristal Radio di rendere possibile tutte le mattine tutto questo parliamo adesso di Stadio parliamo di Stadio che strano che novità mi verrebbe da dire perché insomma sono usciti un po' i dati del Consiglio Comunale di lunedì si è fatto un po' la somma si è fatto un po' il riassunto abbiamo letto e abbiamo tirato un po' le somme tutti i giornali ne parlano quindi vi faccio un po' un riassunto di quello che troverete sui vari giornali già da ieri ma tutta la settimana ne troverete perché insomma appunto si stanno sviscerando anche i dati i dati i dati i dati raccolti appunto durante le audizioni dei vari consigli l'agenzia delle entrate cosa succede appunto l'agenzia delle entrate ha stimato il valore dello stadio di San Siro a 73 milioni di euro un dato appunto emerso lunedì all'interno del Consiglio Comunale dove si è discusso della possibile vendita del Meazza e delle aree circostanti a Milano e Inter i club intenderebbero ridimensionare lo stadio attuale e costruire un nuovo appunto lì accanto nella zona di Viatesio il valore complessivo della proprietà inclusa l'area circostante di 181 metri quadri è fissato a 197 milioni la cifra però è contestata sia da alcuni consiglieri comunali sia dai cittadini presenti appunto in Consiglio Comunale che abbiamo sentito e visto anche alzare i cratini rossi fischiare dando l'espulsione diciamo alla giunta il Comune è accusato appunto da alcuni consiglieri comunali e da alcuni cittadini di voler svendere San Siro secondo l'assessore alla rigenerazione urbana Tancredi invece la perizia dell'Agenzia delle Entrate è considerata imparziale e ha adottato il valore di trasformazione per le aree e il valore della costruzione per lo stadio depreciato in base all'età questo ha portato quindi a stimare l'impianto a 73 milioni contro i 231 milioni che varrebbe se fosse nuovo il consigliere Fedrini ha criticato però l'ipotesi di vendita notando che San Siro produce ricavi annuali per circa 25 milioni quindi dire che ha un valore di 73 milioni sì lo stabile ma se ogni anno uno stabile che vale 73 milioni mi dà un introito di 25 milioni ricavi di 25 milioni insomma bisognerebbe forse valutare diversamente rendendo quindi secondo Fedrini vantaggiosa la proprietà pubblica Fedrini ancora lavora e dice no dobbiamo tenerlo pubblico e infatti ha proposto una ristrutturazione tramite bando pubblico senza alienare la struttura ma il consiglio comunale ha dato un via prima libera invece alla vendita così sembrerebbe resta però una questione di fondo che è quella fondamentale che da mesi ci continuiamo a fare la domanda nel senso che non è neanche quella si può restrutturare non si può restrutturare serve uno stadio nuovo non serve uno stadio nuovo lo dobbiamo fare a San Donato lo dobbiamo fare lì cioè la domanda principale che secondo me bisogna fare soprattutto quando incominciano a uscire le cifre uno stadio vale 70 milioni ma visto che non ha più 5 anni ne vale di meno la domanda da fare però è San Siro è davvero paragonabile a un qualsiasi altro stadio questa è la domanda Cosmo sei la mia città alle 7.42 minuti qui su Crystal Radio Good Morning Milano FM 96.2 sul Dub Plus scusate in tutta la Lombardia e poi ovviamente applicazione per iOS Android e il sito internet crystalradio.it insomma avete trovato vi ho dato tutte le coordinate per seguirci ma se volete approfondire invece le notizie c'è un'altra modalità a Milano molto interessante che sono i giornali di zona abbiamo parlato varie volte qui in trasmissione oggi ne parliamo con l'editore di zona 9 perché esce il numero di zona 9 buongiorno Andrea Bina buongiorno a tutti buongiorno a tutti sì oggi siamo siamo per iniziare la distribuzione del numero di novembre del nostro giornale zona 9 il nome fa spiegare spiega perfettamente da che parte di Milano si può trovare ma che cosa troviamo sul numero di novembre appunto di zona 9 allora abbiamo fatto un bell'articolo per cercare di capire la situazione della piscina Scarioni la piscina Scarioni è chiusa da anni e non si riesce a fare un progetto di ristrutturazione il comune di Milano ci ha già provato quest'estate facendo un bando a cui ha partecipato un solo diciamo concorrente che però non ha superato il limite minimo di punteggio per aggiudicarsi la ristrutturazione e quindi diciamo che abbiamo fatto un buco nell'acqua adesso il comune ci vuole riprovare e sembra che lo stesso la stessa società che ha partecipato al primo bando ci riprova e questo per noi non va bene infatti siamo andati giuduri con il titolo dell'articolo dicendo sbagliare umano perseverare è diabolico perché se ci riprovi con la stessa società che peraltro ha preso un voto bassissimo cioè tipo 16 su 40 minimo quindi vuol dire proprio che ha presentato un progetto che non stava in piedi ecco allora noi ci chiediamo ma il comune di Milano che è il comune più ricco potente d'Italia non riesce a trovare i soldi per gestire in prima persona la ristrutturazione a riaprire una struttura la scarione storica che è conosciuta in tutta Milano e che è chiusa da sei anni ci sembra che qualcosa non funzioni anche perché e questa è la seconda notizia che diamo purtroppo quando una struttura resta vuota viene occupata allora c'è un gruppo di persone che non aveva casa e che ha vissuto per mesi davanti al Politecnico di Milano nelle tende che ha preso e ha occupato quella struttura perché piuttosto che dormire in mezzo a una strada adesso che viene anche il clima rigido ha occupato quelle strutture lì che sono pericolose perché non sono a norma non si sa bene cosa ci sia dentro ci sono dei cedimenti eccetera allora abbiamo creato anche una situazione difficile che allarma i cittadini della zona quindi voglio dire la struttura chiusa occupata e il comune brancola un po' nel buio e quindi stavolta abbiamo dovuto giustamente tirare le orecchie al comune di Milano cosa lo troviamo poi su questo numero di zona 9 che non possiamo perderci abbiamo iniziato a esaminare il nuovo PGT cioè il comune di Milano sta iniziando un lavoro di aggiornamento del PGT il PGT è il piano di governo del territorio che sarebbe praticamente il piano su cui si costruisce la Milano del futuro e quindi abbiamo iniziato a vedere quali sono le linee salienti su cui si sta cercando di aggiornare il PGT perché è un obbligo di legge l'aggiornamento periodico e abbiamo provato a sentire l'assessore Mario Esposito che è l'assessore appunto della partita del municipio 9 che ci ha espresso alcune giudizie alcune idee da proporre all'amministrazione comunale e poi abbiamo ospitato un bel articolo che ci ha scritto Beatrice Uguccioni che è il capogruppo del Partito Democratico a Palazzo Marino che ci ha spiegato che il comune di Milano ha intenzione sempre nell'ambito di questo aggiornamento del PGT di dar vita a un piano casa per realizzare circa 10.000 alloggi a canone convenzionato perché è questo? Perché Milano sta diventando sempre più una città esclusiva esclusiva nel senso che oltre che esclude in realtà bisognerebbe dire escludente ma diciamo per dare bene esclusiva perché se hai i soldi trovi la casa trovi tu se non hai i soldi vai in difficoltà e quindi siccome noi non vogliamo una Milano esclusiva ma una Milano inclusiva ci sembra questa scelta del comune di Milano di creare le condizioni per dare appartamenti a canoni e a costi calmierati un modo utile e importante per rendere la Milano sempre più inclusiva e possibilmente meno esclusiva chi ha i soldi e vuole prendersi il super appartamento benvenga ma noi vogliamo che la Milano cresca accolga famiglie quindi dia futuro anche a chi magari non ha quelle possibilità economiche che adesso lo costringe ad allontanarsi dalla metropole a andare nei comuni di prima seconda cintura proprio perché i costi sono diventati di sostegno ormai anche prima fascia non è facile ormai bisogna andare seconda terza perché ormai non è niente semplice esatto e quindi passi metà della tua vita sui mezzi pubblici perché poi Trenord non funziona gli altri vanno con ritardi eccetera ecco ma la cosa più importante che ci facciamo a questo punto è ma quindi zona 9 dove lo troviamo e come funziona come facciamo a leggere appunto zona 9 perfetto zona 9 esce da 30 anni quindi siamo una realtà ormai consolidata lo diciamo lo diciamo Andrea se non sapete come si legge siete un po' duri però lo dico ai miei ascoltatori se non l'avete ancora trovato in 30 anni dovreste aver capito come si chiama giusto scherzi a parte usciamo tutti i mesi in versione sia cartacea e viene distribuita porta a porta siamo uno dei pochi giornali che viene distribuito ancora porta a porta cioè abbiamo proprio i distributori che stanno partendo in questi minuti sono rimasti voi e la folletto a fare il porta a porta esatto e copriamo i quartieri di Niguarda Bicocca Prato Centenaro Cagranda e Isola quindi buona parte del municipio 9 di Milano siamo anche sulla versione digitale sul nostro sito www zona 9 tutto in lettere tutto attaccato punto com e lì potete trovare e il giornale che è in distribuzione oggi e ovviamente tutto l'archivio storico del nostro giornale quindi se avete curiosità vi viene in mente di andare a cercare qualche articolo per capire come avevamo trattato l'argomento nei precedenti mesi o anni è possibile appunto accedere gratuitamente a tutto il nostro archivio perché così come è accessibile gratuitamente l'archivio e anche il giornale viene distribuito gratuitamente quindi forniamo questo servizio grazie ai nostri inserzionisti che credono in noi appunto da 30 anni e che ci permettono di raccogliere con una certa difficoltà le risorse per riuscire a uscire tutti i mesi con un prodotto che secondo noi è di qualità e se andiamo avanti da 30 anni un motivo penso ci sia mi sa di sì mi sa di sì immagino dicevamo appunto esce tutti i mesi quindi immagino siete già al lavoro sul prossimo numero e vabbè quindi dobbiamo risentirci ma quando esce il prossimo numero Andrea assolutamente è un piacere e appuntamento appunto a dicembre con un'anticipazione esce sempre intorno al 13-12 del mese giusto il secondo mercoledì del mese ah vedi il secondo mercoledì del mese bene allora ci risentiremo il secondo mercoledì di dicembre allora va bene Andrea cercatelo zona 9 lo trovate praticamente ovunque ma anche ve lo consegnano appunto porta a porta quindi insomma se bussano aprite esattamente non fate finta di non esserci e visto il freddo date ai nostri distributori un caffè caldo o un tè giusto 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 va bene grazie mille Andrea buon lavoro e un saluto a tutta la redazione di zona 9 grazie a voi e un saluto a tutti i tuoi ascoltatori ciao buon lavoro anche a voi grazie mille Andrea Mina zona 9 andiamo avanti con un po' di musica fra pochissimo anche il giornale radio e poi appunto troviamo qui con Good Morning Milano tutte le mattine in diretta su Crystal Radio 96.2 FM Dub Plus e tutte le altre modalità che vi ho detto poco fa Cesare Chemonini ora che non ho più te Olivia Newton-John Hopeless Devoted to You alle 8 e 8 minuti questo era la Crystal History perché ogni ora facciamo un salto nel passato e vi facciamo ascoltare una di quelle canzoni che vi ha fatto vibrare quando molti di voi erano giovani quando hanno conosciuto il primo amore in questo caso magari è stato appunto colonna sonora del vostro primo amore beh insomma noi siamo qui appunto per darvi il Crystal History ogni ora e tanto tanto altro come ad esempio le notizie che arrivano dai vari giornali ad esempio di nuovo parliamo dell'urbanistica Milano blocco all'urbanistica in comune a Milano con una circolare il comune ha di fatto sospeso parte dell'attività dei suoi uffici urbanistici è una misura decisa dopo le recenti indagini della procura e della corte dei conti sui vari progetti edilizi della città che porta i dirigenti comunali a limitare i contatti diretti sia con i cittadini che con gli operatori del settore quindi niente più appuntamenti per le nuove pratiche e da oggi chi ha bisogno di informazioni non può più accedere agli uffici si potranno solo protocollare queste pratiche ma non si riceveranno chiaramente in persona cioè di persona appunto una misura che secondo molti operatori però del settore blocca l'avvio di tantissimi nuovi progetti l'altro nodo sull'urbanistica importante che si sta seguendo invece è quello delle cosiddette monetizzazioni cioè i contributi economici che i costruttori devono versare al comune in passato questi importi sono stati spesso calcolati al ribasso secondo alcuni soprattutto secondo le accuse anche un po' secondo alcuni esponenti del consiglio comunale ora il comune chiede che si applichi una clausola per eventuali conguagli e qui si aprirà poi tutto so già un mondo di ricorsi che arriveranno ai vari tribunali e si avvale di valutazioni dell'agenzia delle entrate per tutelarsi da future contestazioni così dice però insomma bisogna capire se la legge permette questa cosa quindi bisogna capire appunto questo il provvedimento quindi è una misura precauzionale quella appunto dei blocchi degli uffici diciamo in presenza per difendere il comune di Milano in attesa di due sviluppi da una parte appunto la conclusione delle inchieste dall'altra la possibile approvazione di una legge specifica la famosa salva Milano ok che mi piace come nome perché insomma fa capire anche che cos'altro salverebbe che dovrebbe chiarire le regole urbanistiche e ridurre quindi i rischi per i funzionari e i dirigenti comunali che ricordiamo appunto essere al momento bloccati frizzati il sindaco Sala ha detto più volte e hanno anche paura e la possiamo coprire e comprendere nel senso che sembrerebbe appunto che nonostante tutto sia stato fatto con le regole queste regole non andavano molto bene e quindi qui di chi è la colpa ma poi soprattutto davvero dobbiamo per forza trovare un colpevole e soprattutto chi di questa situazione un po' stramba ne ha approfittato c'è chi ne ha approfittato o ci sono solo quelli che nel bene così senza senza voler far dolo hanno giustamente firmato le loro carte e fatto quello che la legge gli diceva di fare è qui che le indagini appunto stanno andando a cercare di capire che cosa è successo cosa è successo la famosa legge appunto salva a Milano potrebbe essere di scusa in Parlamento il prossimo 19 novembre salvo però eventuali e nuovi perché se è stato così rinvii questo è il tema dell'urbanistica questo è il tema che a Milano in questo momento sta tenendo banco forse forse mi viene a dire anche più dello stadio IBGs con Tragedy alle 8 e 17 minuti qui su Crystal Radio Good Morning Milano questa mattina è la musica che la fa da padrona perché voglio darvi la scossa voglio darvi la possibilità di o cantare o ballare insomma deve essere una mattinata in cui visto il freddo che fa almeno i vostri cuori e le vostre anime si possano scaldare con la musica di Crystal Radio Good Morning Milano ogni mattina proviamo a farlo questa mattina mi sento in dovere di farlo più del solito e allora voglio andare subito con un'altra canzone una sorta di fil rouge in realtà non c'entra niente il fil rouge ma diciamo una sequenza sequenziale di canzoni che vi fanno cantare a squarciagola io penso che la prossima sicuramente la canterete sicuramente la canterete a squarciagola beh tirate giù il finestrino anche se fa freddo e cantatela loro sono gli 8883 con nord sud ovest est baila tananai tananai con ragni alle 8 e 33 minuti qui su crystal radio ve lo ricordo sempre fm 96.2 o dub plus in tutta la lombardia e poi l'applicazione il sito insomma potete trovarci e poi vi ricordo anche goodmorning.milano.it per riascoltare tutto quello che succede in questa trasmissione oggi e nelle altre giornate in questo momento siamo in collegamento telefonico invece con un aggreditissimo ospite anzi un ritorno sono contento tante volte stato qui a questo tavolo con me oggi è in collegamento telefonico diamo il benvenuto a Roberto Biscardini buongiorno buongiorno a voi buongiorno Roberto allora hai scritto una missiva una lettera chi erano i destinatari? ma la ragione della missiva è molto semplice è da 15 anni che ci battiamo per vedere procedere il progetto della riapertura dei navigli a Milano nel 2011 si fece un referendum e il 96% dei milanesi disse che era a favore di questo progetto poi si fecero degli atti per la verità a Palazzo Marino favorevoli a degli studi di fattibilità per verificare la fattibilità dell'opera e oggi questo progetto invece si è inventato nel porto delle nebbie nessuno ne parla ecco allora mi è sembrato doveroso ricordare i consiglieri comunali naturalmente anche al sindaco e agli assessori che di fronte alle dichiarazioni trionfalistiche che abbiamo a Milano la possibilità di avere un bilancio espansivo così è stato dichiarato addirittura di 4 miliardi di euro per interventi di diversa natura non ci sia neanche un euro per riprendere questo tema e fare qualche passo in più Roberto ricordami se sbaglio che nel 2012 era stato inserito all'interno del PGT come piano strategico quella del reputore dei navigi giusto? cioè 2012 stiamo parlando di un nero fa o mai hai perfettamente ragione è stato inserito nel 2012 come piano strategico dopodiché nel 2014 e nel 2015 è stato approvato lo studio di fattibilità poi il sindaco è andato in Europa e l'Europa gli ha detto ti diamo anche i soldi perché fai uno studio integrale del progetto questo progetto è stato avviato ma non sappiamo i risultati da parte di metropolitana milanese ma tutto è sparito cioè quando uno legge sui giornali gli articoli sulle cose più importanti da fare o meno importanti da fare però neanche un punto di riferimento si fa a questo progetto ma quindi Roberto la questione è solo una questione di fondi o c'è altro? perché si ferma questo progetto? perché non va avanti? perché secondo me l'amministrazione comunale ha paura di affrontare un progetto che può apparire complesso ma è certamente un progetto di alta natura rispetto a quelli di cui discutiamo tutti i giorni a Milano se a Milano discutiamo continuamente di grattacieli di occupazioni di suolo di cementificazione della città questo è l'esatto contrario cioè questo è un progetto ambientale certo probabilmente che produce una ricchezza in senso del benessere generale per la città ma certamente non fa ricco nessuno e mentre oggi mi sembra che la città sia attenta soltanto a produrre ricchezza per chi è già ricco per la verità e quindi non è vero che non ci sono i soldi i soldi si possono benissimo trovare e io ho fatto anche una provocazione 4 miliardi di bilancio il povero architetto Empio Malara che per anni si era battuto per la conca di Viarenna come piccolissima opera che è l'inizio del progetto costa 10 milioni ecco non si trovano 10 milioni per la conca di Viarenna e abbiamo un bilancio di 4 miliardi c'è qualcosa che non funziona e quindi questa cosa della conca è interessante Roberto perché tu dici non c'è necessariamente bisogno di prendere iniziare tutto il progetto tirare su tutto e riaprire tutto si può partire da lì cosa potrebbe fare proprio lì dove dici tu nella conca ma allora la conca di Viarenna che molti milanesi la conoscono ormai c'è solo un vecchio riferimento alla conca che c'era fin dal 1400 in poi lì proprio in Via Arena si chiama Via Arena perché è Via Arena ecco lì la conca c'è c'è una vasca di acqua che segna il punto dove c'era la conca antica ecco aprire quella conca lì vuol dire estendere la darsena verso Via Conca del Naviglio diciamo superare Via D'Annunzio e costruire un pezzo di Naviglio più a nord rispetto all'attuale darsena oppure come diciamo noi anche qui non si tratta di aprire tutto in una volta sola la cosa più semplice è realizzare il tratto di Via Mercchiore Gioia che è il prolungamento della Martesana dalla Cassina dei Pomme fino ai bastioni di Porta Nuova e lì la Martesana come molti sanno corre ancora sotto Via Mercchiore Gioia quindi l'intervento è abbastanza semplice peraltro Mercchiore Gioia è un viale molto largo si può lasciare due corsie di marcia per ogni senso di marcia ma dai Roberto dimmi la verità dimmi la verità dimmi la verità cioè tu la fai troppo facile non può essere così semplice dimmi la verità dai no no io dico che non si vuole fare una cosa semplice e che non si vuole andare a cercare i soldi dove ci sono perché questo è il punto se l'Europa ti dice nel 2018 19 dice dice a sala noi siamo disposti a finanziarti a condizione che ci presenti un progetto la mia domanda è perché il progetto non è stato presentato in Europa e ricordiamo che quanto servirebbe per fare solo la conca di Viarenna 10 milioni 10 milioni quindi una stupidaggia una vera stupidaggia con tutti i soldi che si buttano via e con tutti i soldi che non si recuperano perché insomma ma la domanda è però Roberto ne spendiamo 10 milioni ma poi abbiamo semplicemente un bella piazzetta cioè è lì il problema come facciamo a guadagnare di nuovo abbiamo l'estensione della Darsena è come allargare l'attuale Darsena perché l'acqua si infila dalla Darsena sotto via D'Annunzio e sbuca dall'altra parte in quella che oggi è un giardino davanti alle scuole elementari e medie proprio di via D'Annunzio e arriva fino alla conca di via Lella quindi è un pezzo di Darsena da più un pezzo di bellezza di Milano in più cioè ricordiamoci che qua a Milano puoi fare 2000 grattacieli 10 espo 10 interventi edilizzi non avrà mai Milano come dire la notorietà che avrebbe se aprisse i navigli a Milano aprire i navigli a Milano vuol dire diventare famoso in tutto il mondo posso fare tutti i grattacieli che voglio ma poi alla fine anche il turista più modaiolo alla fine comunque va sul naviglio a farsi la foto poi comunque anche il milanese che vuole passeggiare con calma e serenità in una zona con minore traffico siamo pratici i grattacieli li godono coloro che li comprano e che vanno ad abitare dentro ma io che abito da parte di città studi il fatto che ci sia un grattacielo a Porta Nuova non è che mi dà un vantaggio né di benessere né economico non importa nessun vantaggio pratico cioè tu a te che costruiscono 20 grattacieli in più non ci guadagni niente ci guadagno a coloro che li comprano questi grattacieli ma dimmi un po' allora la lettera l'hai spedita adesso con i tempi delle poste compatibilmente con i tempi delle poste qualcuno ti ha già risposto è già arrivata perché è arrivata con una mail quindi è arrivata in tempo reale è arrivata in tempo reale qualcuno ha già detto qualcosa ha già risposto nessuno fanno tutti finte di niente purtroppo si è inserita in un dibattito altrettanto sconfortante che è quello di San Siro oh mamma mia voglio dire Milano è bloccato da sei anni a discutere di San Siro non so se vedremo la luce in un senso o nell'altro ma insomma abbiamo una città paralizzata per quanto riguarda l'urbanistica paralizzata per quanto riguarda San Siro che anche quello è un progetto non per fare lo stadio ma per costruire altri grattacieli intorno e quindi siamo fermi lì noi chiediamo pensiamo all'ambiente pensiamo al paesaggio pensiamo al benessere delle persone pensiamo a ridurre il calore dell'aria facendo correre l'acqua in città pensiamo all'acqua insieme al parchi pensiamo a città diverse questo è il mio messaggio che arriva forte e chiaro e che abbiamo ben compreso per questo appunto che volevamo anche averti qui questa mattina dopo questa missiva che hai mandato anche perché appunto l'indomani dell'inizio delle creazioni sul bilancio 2025 non vedere neanche un euro per i navigli insomma forse effettivamente ti hanno fatto un attimo trasalire sulla seggio penso giusto perfetto ma infatti vi ringrazio per questo vostro intervento e questo vostro interesse perché purtroppo siamo anche in un mondo in cui la stampa i media eccetera seguono l'onda no? sei inabissato anche nell'interesse della stampa questo progetto cosa stranissima allora noi Roberto seguiamo volentieri l'onda del naviglio allora va bene facciamo così il moto ondoso il moto ondoso inabili che può produrre persino energia idroelettrica perché le ricadute economiche del progetto sono molteplici non sono solo la cosa per i turisti non è solo un intervento per i turisti è un intervento ambientale ecologico che noi per esempio abbiamo sempre pensato anche come produttore per esempio di energia elettrica perché mettere le microturbine può produrre possiamo fare le pompe di calore possiamo fare intorno al progetto di navide molte cose molto utili usando in modo intelligente l'acqua bene bene perfetto Roberto grazie mille facci sapere se qualcuno risponde così poi lo ringraziamo anche per la risposta ci fa sapere che è la risposta nel caso va bene va bene ok buona giornata Roberto Biscardini grazie mille e grazie di avere una visione della città un po' diversa magari dagli altri ma che insomma ci fa anche sperare in una città migliore grazie mille Roberto icona pop adesso con Girlfriends alle 8 e 44 minuti qui su Crystal Radio icona pop con Girlfriends alle 8 e 47 minuti qui su Crystal Radio che poi questa questione del coraggio che Biscardini ha tirato fuori parlando appunto della Milano che non ha il coraggio di affrontare un impegno come quello di aprire i navigli un progetto sicuramente faraonico ma che può portare dei grandi vantaggi alla città anche e soprattutto a chi la vive questa città poi a volte stride però questo coraggio con quello che si ha quando si cani da Milano ad esempio come abbiamo fatto con l'Expo ad esempio o come abbiamo fatto con le Olimpiadi perché è vero ci sono le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 si stanno preparando non solo come un evento sportivo ma come appunto un'occasione di crescita per le infrastrutture del nostro territorio secondo il presidente del CONI Giovanni Malagro gli investimenti per questi giochi non riguardano solo le strutture sportive ben l'80% delle risorse è destinato a migliorare strade e ferrovie interventi che andranno a beneficio dei cittadini anche dopo la fine delle Olimpiadi per Malagro quindi senza un grande evento come questo molte delle opere che si stanno realizzando non si sarebbero mai potute fare Fabio Saldini che è l'amministratore delegato delle infrastrutture Milano Cortina ha rassicurato tutti dicendo che le opere saranno pronte entro marzo 2025 con lavori che procedono ora in linea con il cronoprogramma quindi siamo tornati in linea finalmente qualcosa che va in orario in Lombardia Saldini ha ricordato che sono previsti circa 100 interventi tra cui 44 opere sportive e 56 infrastrutturali per un totale di 3,4 miliardi di euro anche il presidente della regione Lombardia Tiglio Fontana ha evidenziato che queste opere saranno una legacy appunto un'eredità per la Lombardia il villaggio olimpico di Porta Romana non lo si promessa ma ad esempio diventerà uno studentato mentre nuove infrastrutture sportive miglioreranno l'offerta turistica delle nostre stazioni sciistiche parlando appunto non di Milano sicuro non c'è nessuna stazione sciistica di Milano ma appunto parlando del resto della Lombardia insomma questo è un rassicurare sul fatto che per marzo 2025 le infrastrutture dovrebbero essere tutte pronte quello che non capisco è perché se c'è il coraggio da quella parte lì di fare queste opere non c'è il coraggio dall'altra parte ah forse perché il guadagno non è così diretto e i soldi non arrivano così direttamente dal aprire un naviglio ma arriveranno con il tempo e invece insomma nel costruire strade costruire palazzi invece arriva tutto subito ma chissà a pensare male com'è che si dice no 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 dai dai ma alla fine noi siamo una radio queste sono solo canzonette 8 e 54 minuti di oggi mercoledì 13 novembre siamo arrivati alla fine di questa puntata di oggi di Good Morning Milano grazie a tutti quelli che oggi ci hanno scritto whatsapp e messaggi grazie davvero noi siamo sempre qui per accettare i vostri suggerimenti le vostre foto vi siete tornato le foto di un'alba molto molto fredda su Milano e ce l'avete mandato al 33178535559 scriveteci quando volete tanto poi noi li leggiamo sempre perché qua qua ha sempre aperto il nostro computer quindi scriveteci pure siamo qua pronti e anche se potete scrivere anche altre trasmissioni perché dopo di noi ci sono tante altre trasmissioni ad esempio ad esempio c'è senti questa alle 9.05 Ambrogio Curti con senti questa grande musica racconti aneddoti tutto quello che ruota intorno a una canzone a un artista ad un album raccontato appunto da Ambrogio Curti alle 9.05 dopo di noi dopo il giornale radio con senti questa le voci che avete sentito questa mattina sono state quelle di Andrea Bina e Roberto Biscardini in regia prontissima qua dove varia tutta la questione chi? Gineva Lauria e io qui al microfono Fabio Ranfi che vi dà appuntamento a domani alle 7 qui su Good Morning Milano ciao a domani ciao 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 ciao